Ciao, io sono Franconcini e come sapete ho corso gli anni del moto mondiale, ho vinto il mondo mondiale nel 1982, sono stato un pilota adenese e nella mia carriera ho avuto diversi incidenti come tutti i piloti, ma come potete vedere sono un interco per cui grazie a Rino Adenese.